Adesso andremo a eseguire una foratura dal pieno con una punta da 14 mm particolare chiamata TurboTip perché ha una serie di gradini e quindi non devo effettuare i pre-fori e lo andremo a eseguire sempre con il Panasonic da 470 newton metri anche in questo caso punta sul pieno 6 mm di ferro senza pre-foro tanta velocità di esecuzione e soprattutto nessuna torsione sul polso quindi anche posizioni più difficili non ho bisogno della della seconda mano per reggere il contraccolpo sul polso